Alex Sambucci, il Parma arriva alla seconda fase con un turno d'anticipo, dopo un inizio non facile penso che ci sia soddisfazione. Sì, siamo partiti un po' così e così, come al solito fatichiamo a prendere il ritmo, però sapevamo che una volta preso il ritmo saremmo andati bene, finalmente stiamo giocando bene, adesso abbiamo Nettuno per cercare di prendere ancora un po' di più confidenza nel box, soprattutto con la partita dell'italiano dove facciamo un po' più fatica, però siamo fiduciosi. Avete giocato alla pari con tutti, cosa ti senti di poter dire sulla seconda fase? Ci sarà equilibrio o vedi una o due favoriti? Guarda, Bologna ha dominato la regola season, adesso bisogna anche vedere gli stranieri che verranno, però secondo me ci sarà molto equilibrio, San Marino come al solito quando arriva i playoff cambia, Rimini ha un line-up molto lungo, Bologna ha un buon monte, noi siamo un po' gli underdog e speriamo di dar fastidio e magari toglierci qualche soddisfazione. Il vostro baseball è forse il più aggressivo e anche il più rischioso? Sulle basi cercate sempre di far succedere qualcosa? Sì, non abbiamo nessun battitore di potenza a parte Marval, però quindi dobbiamo cercare di muovere un po' la situazione, quando arriviamo in base cerchiamo sempre di far giocare la difesa, cercare di mettere in pressione anche al lanciatore, magari sbagliano, quindi questo è il nostro gioco, dobbiamo essere aggressivi e sperare e sfruttare soprattutto le occasioni. Sono grandi, sono proprio forti, sono forti, sono forti, devo ammettere che ti ho goduto.